E' bello ragazzi qui XU e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video, oggi siamo qui ritornati su Grand Theft Auto 3 The Definitive Edition Come vedete siamo in una mattina abbastanza nebbiosa qui nei pressi di Central Park E signori siamo qui con l'ottavo episodio del World True di Grand Theft Auto 3 Nello scorso episodio, ancora, vi giuro ho appena smesso di piovere Cioè, letteralmente, due minuti fa pioveva, adesso piove di nuovo Vabbè, comunque, ad ogni modo, nello scorso episodio abbiamo avuto delle incomprensioni, ecco, con il gioco Poiché, diciamo che, come dire, è abbastanza caotico Quindi sì, oggi speriamo di non avere queste incomprensioni Indi per cui io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale Mi raccomando, commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti, è molto importante E andiamo a vedere cosa ha da dirci il nostro carissimo Ray fuori a pescare Mamma mia Oh, sta uscendo fuori veramente a pescare lui, eh Va bene, ok, mettiamolo a dormire con i pesci Ruba una lancia della polizia Signori, una lancia della polizia Allora, io non so perché la mia auto sia lì, sinceramente, parlando, eh L'ho vista con la coda dell'occhio E meno male che l'ho vista, perché si è teleportata qua Quindi, come iniziare al meglio l'episodio, se non con le auto che si muovono da sole? Comunque sia, la lancia non è la lancia della polizia intesa come la lancia, ok, l'auto Ma la barca, la barca si chiama lancia E voi direte, che c'entra? E che ne so, chiedetelo a Rockstar Games Io posso scendere direttamente da qua, anche se c'è sto muro di cemento armato No, eh Però, faccio una roba, io mi chiamo Cloud Speed, no? Cloud di cognome e speed di nome Quindi, se io mi butto, non muoio, giusto? Esattamente, vedi? Vedi che fa fare chiamarsi Cloud Speed? Se invece mi fossi chiamato, tipo, eh, non lo so Nico Bellic sarei morto, capisci? Vedi la differenza Allora, recuperiamo sta lancia, va Ora, come sempre, l'ansia Perché, boh, non si sa mai C'è il rischio sempre di cadere a mare Mannaggia a te Sali, guida Perfetto Raggiungi il faro e affronta il socio di Ray Ma questa barca qui non l'avevamo affrontata o era un'altra, no? Perché non è che, boh, ci sono più barche rispetto a prima Allora, il pescatore Oh, filmatino Che fa? Regà, sempre tanto tipo Dexter Signori Tecnologia Moderna Ma va bene così Oh, sta scappando Ma ha lasciato il pesce lì e scappa A pezzo di schifo Ma che lancia? Barili lancia questo? Allora, ho come l'impressione che lanci i barili esplosivi Quindi, eh, esatto Eh, mo' è un problema Perché se questo mi lancia i barili esplosivi Eh, vabbè, pure io che li piglio tutti Anche io mica, eh, dico, mi limito Ma cosa fa? Perché ritorna indietro? Devo stare attento ai barili che mi lancia Perché non c'è volunque Ma stai a pigliarli e morire Poi che fa? Oh, fa le virate pazzesche questo Allora, stiamo un attimino di... Traverso? Dove va? Non so se è normale Questa cosa Però Vi devo dire A me Fica me dispiace 15.000 Non ho capito cosa è successo, ok? Tecnicamente non doveva finire così Però È finita così Quindi, signori D è il più vicino Andiamo da D Comunque non vorrei che il gioco stesse prendendo il vizio di mantarmi Ogni volta a fare missioni nelle altre isole, va Perché è già la seconda volta che capita Per Ray, mi pare Sempre, tra l'altro, eh Che mi fa iniziare la missione qua E mi manta da un'altra parte Questa roba, sinceramente, un po' mi dà fastidio Perché... Oh, l'aereo Regà, l'aereo è impicchiata nella città È pazzo? Ma porca di quella vacca Vabbè, allora In realtà Ray sarebbe ancora più vicino di D Però ormai ho detto che vado da D Vado da D Ma sto D è la prima volta che facciamo un lavoretto per lui O sbaglio, no? Vediamo Conosciamo D Liberatore Eh sì Vedi Ok, nulla di troppo complesso Devo semplicemente salvare un vecchietto Sarà mai Procurati un'auto dei gangster colombiani Oh, Dio Sì sì, è proprio una missione facile Già L'auto dei gangster colombiani Infiltrati nel rifugio Il cantiere Mi serve la ragazza di macchina là Quella là Mamma mia Ma come si fa? Ma come si fa? Infatti io vorrei pure prendere lo scudo Però non so dove prenderlo Quindi chissà se lo trovo alla Munation Proviamo A sto giro spero di non sbagliarmi L'auto da gangster dovrebbe essere quell'auto là Quella blu Quella che ho preso l'altra volta Che ovviamente poi non ho usato 2000 dollari costa un giubbottino Oh raga per la prima volta GT5 è più economico Assurdo Ora ovviamente di quelle auto Me ne sono sempre spawnate a migliaia Adesso che la voglio Manco una Una cosa è certa Tutti mi sparano E tutti mi odiano Dov'è l'auto dei gangster? È normale che non sbuchi fuori l'auto? Comunque se già mi sparano da adesso Che non li sto né minacciando E ne è nulla Figuriamoci che ce deve essere Appena io entro dentro il cantiere È lì È lì è lì è lì Meno male che l'ho vista Stavo per girare Stavo per girare Ma ho visto Il mezzo Il mezzo Incredibile Però sia lui Regà Anche perché hanno ridotto lo spawn Palesemente Per sta missione Quindi esatto Salva il vecchietto asiatico Andiamo a salvare il vecchietto È nel cantiere? Ah no Signor quant'è che si fa la missione Che vado nel cantiere? Forse proprio con Sto tizio qua Si fa l'assalto al cantiere Ed è un macello Comunque già che lo devo salvare Non è che mi ispiri più di tanto Eeeh Cazzarola Eeeh Eeeh Qua che devo entrare io Adesso mi sparano tutti i colompiani No? Perché in automatico Sanno che io sono un loro nemico Diam, 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 diam Schiaccialo Morici Schifo Salta via Corri via Aspè Il cangello è aperto Eh sì Il cangello è aperto E baronici rimane aperto E a me sinceramente Mi importa che rimanga aperto Piano piano, eh Piano piano Delicato Senza fretta Perché No? Cioè Poi ci muriamo E a noi questa roba qui Non piace Sennò poi il vecchietto asiatico Chi lo salva? Sono la persona più importante Eeeh Del vecchietto asiatico al momento Eh ma da dove salta fuori? Scusami Eeeh Qui sono morti tutti Salgo sull'auto? Sì a quanto pare bastava salire veramente sull'auto Il vecchietto asiatico deve trovarsi in uno dei garage Quindi Questi? E come li apro io? Oh no 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 Dai dai Che schifo regà Porca vacca Mi ha mirato storto Sto Brazza Di cloud E mo io piano qua eh Mica Mica so scemo come Sì ma io ancora non ho capito il meccanismo d'apertura di sti garage sinceramente E mi sa che quello non si apre Devo andare qua Vediamo Piano Eh lo sapevo Regà io sono morto Lo sapete vero? Oh luca Io lo sapevo sarebbe finita così d'altronde no? Perché il primo mi ha colto veramente alla sprovvista Non me l'aspettavo che mi uscisse fuori il cretino Però adesso Una cosa è certa Io so che non si trova né in quel garage né in quell'altro Quindi Qualcuno stai che apro quel garage lì proprio Sinceramente la cosa che rimpianco di più è l'auto per entrare Ma io posso entrare abusivamente anche senza auto Tanto mi sparano Mi sparano Se io vado là con un furgone Lo metto bello pulito Cioè È uguale Poco importa Ho sbaglio Tanto mi sparano Che serve pigliare l'auto Andare a cercare Se la trovo bene Se no provo a metterci un furgone Regà Che me frega a me Sì è il minivan Secondo me va di lusso Il mumbian è ancora meglio È più alto Tanto quell'auto lì Vedete Non spawna mica Non spawna mica Hanno ridotto lo spawna a mille Però Io non è che mi ricordi la traversa Forse è quella sotto Eh sì Sparatemi Sparatemi Che poi vi regalo una bella frittata Però Mi sa che Rockstar se l'è studiata bene Ma Rockstar non sa Non sa Rockstar Foretta Rockstar È un po' pivella Capisci Non sa che c'è Signor Will A giocare Quindi Questo che mi invento Io metto il furgoncione qua Così mi arrampico Eh S'attaccano Bisogna essere furbi Scaltri E fottere Rockstar Dove si può Se funziona Un attimino Vediamo Non parliamo prima del Se Oh è incredibile È È la persona più storta Che io abbia mai visto Ma così dovrebbe andar bene È certo che va bene E perché non c'è nessuno Perché giustamente Il gioco non carica Non mi carica Manco il vecchietto Quindi capisci che io ci devo andare Per forza con quell'auto Di me Devo cercarmela No Allora Il test è buono Cioè nel senso Funziona tutto Il metodo Eccetera eccetera Però Tra l'altro guardate Che metodo di reset traffico Che ho trovato Basta girare la visuale Tata E ti resette il traffico Quindi Lo posso resettare A mio piacimento Finché non mi esce l'auto Eccola Dai ferma eh O se scappi Dimmi che c'è il rosso Eh ma tanto quella Figurati se si ferma il rosso Però si ferma Al camion AM Adesso Dato che noi sappiamo già Andiamo con Molta molta calma No perché tanto loro Ci attaccano così E io anche li attacco così No addirittura con Un cavolo di M4 Che è ingestibile Su sto gioco Però comunque Sono veramente stupidi eh Cioè guarda Ora stanno tipo A mo' di guardia reale A non fare una mazza Cioè non si muovono nemmeno Nonostante io Chi stia sparando Ma vabbè Ah boh la gamba Il vecchietto asiatico Vedi sono morti tutti Ci sono due deficienti Lì ma Va bene così Già comunque molto meglio Rispetto a prima Allora sappiamo che Quello è quello No Proviamo Questo qua Vediamo Speriamo bene C'è C'era anche il pezzo di merda Che è morto subito Porta il vecchietto asiatico Da qualche parte Insomma Da McDonald love L'amore per il McDonald Dalga vecchietto Andiamo Con la musica lirica Tutto più rilassante Ci siamo Siamo arrivati Con una stelletta di ricercato Perché quella Non manca mai Quanti soldi mi dai Caro mio Minimo 40.000 Salvataggio No Sparisce nell'ombra Lui Signori 40.000 Ebbè E chi sono io Per giudicare Andiamo nuovamente Stata di Spazza via Wakagashira Lo conoscete? Sto coglione Mi ricordo solo ora Che c'è il giardino zen Che mi piace Un bordello Newport Newport Se non mi sbaglio È l'altra isola Ancora no? Raggiungi Fort Vabbè Ruba la macchina Dei colompiani Ce l'ho già La macchina Dei colompiani Ti va bene? E lei? Perfetto Raggiungi il parcheggio Multipiano A Newport Ah no Newport è Qual è Newport? Come si chiama Oh vabbè Io ero rimasto Si chiama Statua On Island Una cazza del genere Invece si chiama Newport Passerei pure a ripararla Un attimino C'è com'è Non si sa mai Metti caso mi sparano Sparatine Nel dubbio Tanto Sono due metri Allora Paga Dolore spray Forza Ricaricami la macchina Funzionamela Allora Vediamo di non sgarrare la macchina E parcheggiamoci Su Palo lo prendo per forza Arrivare su Senza sgarrare la macchina Mi sembra un po' un'impresa Sinceramente Però Soprattutto perché c'ho un Cono Che cazzo Non è una macchina questa È un transatlantico Là Lui Quel figlio di put Eh Eh Ho fatto bene A riparare l'auto Però Io come l'ammazzo A questo Allora la via di fuga Ce l'ho là Qua non ce l'ho Quelli corrono Già e non mi piacciono C'è sempre che stanno a fare Gli allenamenti Qualcosa del genere Sono rincoglioniti E basta Quello lì Io lo vorrei uccidere Direttamente Da qui No Però 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 Riproviamo Quindi Non possiamo Scendere dall'auto Altrimenti Eh Si incazza Devo per forza Investirlo Quelli lì sicuramente Mi bombardano Allora Abbiamo capito Che la riparazione Del veicolo Non è che è necessaria È obbligatoria Perché se oso Andare lì con il veicolo In queste condizioni È finita Bello il drop frame Beh Stai che mazzi La cosa che mi preoccupa Maggiormente Che ci stanno Le auto Tipo Messe a scudo Una roba del genere Quindi c'è Molto rischio Che Mi devino E poi quello sale Su una macchina Scaffa Non c'ho voglia Soprattutto perché C'ho 288 colpi Quindi rischia Di finire come L'altra volta Va Allora Abbiamo capito Che lo devo per forza Investire Però studierei Un attimino La dinamica Della situazione No Si Oh Che giù mi spara Questo Allora Calmi tutti Mi sa che mi conviene Arrivare dalla Fare Sbom Sul muro Lo schiaccio Sul muro Guarda lo faccio Diventare Una patata fritta Allora Eh Patata fritta Si Patata fritta fatta Dove si va Dalla fuga Da là Via 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 Prima che esplode L'auto Il salto Mamma mia Guarda che stile E che fa Do va Si ferma Mi sa che è caduta Un po' Male Sui piedi Sulle No Le ruote L'esplosione Senti Ma vaffanculo E che ci possiamo fare Ve l'ho detto E cloud speed Il problema Cioè decide lui Cosa fa Io schiaccio Ma tanto Lui decide di esplodere Perché c'è là L'anima Kamikaze Giustamente Allora si Allora Abbiamo capito Come attaccare Abbiamo capito Cosa dobbiamo fare Solo che Non dobbiamo saltare In aria Quindi si Vai 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 Si Gira Più rapidi che mai Regà Esploso tutto Ma l'importante È che non esplodiamo noi Giusto Atterrerà sulle ruote Finirà male Nuovamente Spero di no Bonus Acrobazia folle Perfetta Signori Perfetta È così che doveva andare Anche prima Solo che Poco fa è successa Una traslazione laterale Adesso abbandona l'auto 30.000 Ma io Ci risalgo su Perché non si sa mai Detto ciò Io direi di andare A fare l'ultima missione Per conto Del signor Ray Che ce l'abbiamo Esattamente Qui davanti Vediamo che vole Stronca L'infiltrato Brutto stronzo Ovviamente Sarà più E tu non si sa mai E tu non si sa mai E tu non si sa mai Un uomo E tu non si sa mai E tu non si sa mai E tu non si sa mai I vecchi compagni Ma allora E tu non si sa mai E tu non si sa mai E tu non si sa mai E su un'ambulanza Io devo danneggiare L'ambulanza Prima che arrivi all'ospedale Quindi Spero che i miei 288 colpi Facciano Faville Altrimenti Ci attacchiamo al grandissimo Come sempre no Ti hanno visto no ma va E loro come fanno a sapere che io li voglio male E c'hanno sta specie di telepatia Qui su sto gioco che Oh raga ma che è la mummia E che cazzo E che Non ho capito scusi Ah il danno non è dell'ambulanza Ma è della mummia Ah è tutto chiaro Eh scusami un attimo allora aspetti signora mummia Io ho un lanciarazzi Però non ho un casio Aspetta no si i proiettili Non scalfiranno l'incestatura E la madonna ma non è l'incestatura È un'armatura I razzi non gli fanno nulla Ma come Ma che sta cazzo Mi sono finiti Bella la polizia che scende dal veicolo in corsa Meglio di cloud E raga ma io questo come l'ammazzo scusami eh Se l'armatura è lì i proiettili non gli fanno niente E le granate che vuoi che gli facciano? Eh sì e vabbè dai e morici Questo si chiama Che fai me lo rianimi? Mi rianima la mummia? Dove è finita la mummia tra l'altro? Perché qua è successo un casino Vabbè a noi che ci importa L'importante è che è esploso Detto ciò io direi che per questo episodio Per questo ottavo episodio Possa essere tutto Abbiamo avuto la battaglia Così Sportività Ma chi è Sherlock Holmes? Che vuole da me? Oh ma che voglio? Tutti uguali Quelli vestiti uguali ce l'hanno con me Elevati Il posto migliore di questo non esiste Fidatevi Dicevamo abbiamo sconvitto anche il signor mummia Che era una persona molto importante Diciamo all'interno di Ma non so chi siano quelli lì Veramente Mister X che mi insegue Detto ciò io come sempre Vi invito a lasciare un bel like Commentate Condividete Iscrivetevi per non perdervi i futuri contenuti Se avete voglia Seguitemi su Instagram E noi ci rivediamo Con un prossimo video Bella raga Ciao